Io ho sempre amato questa marca e dopo la lettura di questo libro l'amo ancora di più. Yvon Chouinard, Let my people go surfing. Chi è Yvon Chouinard? Spero che sia giusta la pronuncia. È il fondatore della Patagonia, una marca molto nota di abbigliamento tecnico da montagna e non solo. In questo libro racconta come ha fondato Patagonia. Sembra quasi, leggendo le sue parole, che sia successo un po' per caso. Tutto è partito dalla creazione di materiale per l'arrampicata. Yvon Chouinard è sempre stato un grandissimo sportivo, mai specializzato in nessuno sport particolare, ma ne ha fatti di tutti i colori. La prima parte del libro, praticamente metà libro, è dedicata alle sue incredibili imprese. È un pazzo, è completamente pazzo, cioè non lo so come faccio ad essere ancora vivo. Ha provato ogni genere di sport estremo e parallelamente allo sport lavorava anche. Un personaggio incredibile, quindi la prima parte l'ho divorata, è molto più autobiografica. La seconda parte invece del libro è dedicata più proprio alla filosofia della Patagonia. Ho fatto un po' più fatica a leggere la seconda parte perché ci sono tantissimi dati, tantissime informazioni e alcune cose sono più specifiche per magari un imprenditore. Altre cose mi hanno esaltata enormemente perché porta dei dati su dei temi che mi stanno molto a cuore, che esulano anche dalla tematica strettamente legata all'abbigliamento. Parla ad esempio dell'agricoltura biologica e rigenerativa con dati alla mano, che potrebbe essere molto ma molto più efficace per affrontare i problemi climatici che non l'agricoltura industriale, dando anche più produzione. Consiglio la lettura di questo libro anche per le stupende foto che ci sono dentro, che fanno viaggiare nel tempo, negli anni, nello sport, veramente veramente molto molto bello. Io credo che se tutte le multinazionali fossero come Patagonia avremmo infinitamente meno problemi di crisi climatica. È veramente incredibile quanto Patagonia abbia pensato a tutti gli aspetti del proprio business. Non è assolutamente da una multinazionale che pensa solo al profitto, anzi ad ascoltare o meglio a leggere Yvonne sembra che il profitto non sia particolarmente interessante. Quello che gli interessa è fare meno danni possibile e addirittura fare del bene se possibile. Una cosa particolare che mi ha colpito e che è effettivamente vero è che Patagonia non ha bisogno di farsi pubblicità. Le cose che fa fanno pubblicità da sé. Non a caso io non sono pagata da Patagonia per parlarvi di questo libro, ma vi sto parlando di questo libro e del marchio Patagonia gratis. Patagonia praticamente ha ideato l'abbigliamento tecnico da montagna, gliene sono molto grata, infatti mi ricordo effettivamente che le prime cose che ho comprato per andare in montagna tecniche erano della Patagonia. Patagonia ha ideato l'1% for the planet, l'1% delle vendite viene destinato a sostenere delle cause ambientali. Per fortuna le idee di Patagonia sono state anche adottate da altri marchi. Leggere questo libro per me è stato... cioè io ero commossa fondamentalmente perché dovrebbe essere così il business. Non c'è un altro modo di lavorare se non così. Come dice l'ambientalista David Brower, citato da Yvon Schwinnar, è impossibile fare affari su un pianeta morto.